Buonasera, cos'è un classico? Il classico è ciò che aiuta a classificare, cioè a dare un criterio, fornisce una guida, una norma, un ideale, un canone. Siamo alle prese con tanti libri, siamo alle prese con tanta musica, siamo alle prese con tanti dipinti, siamo alle prese con tante cose nella vita e precisamente per questo la mente, direi anche il cuore, il cuore e la mente insieme cercano dei criteri, delle norme che aiutino a mettere ordine, a fare una classifica, a classificare ed è per quello che, per giungere a questa classificazione e penso che sia per questo che è nato nel genere umano l'esigenza di dire che alcune musiche sono classiche, che alcuni libri sono classici, che alcuni dipinti sono classici. Io penso che sia nata da qui questa esigenza, cioè risponde a un bisogno vitale, no? C'è un bisogno vitale di orientamento, di guida, di classificazione, di gerarchia. Le cose non sono tutte uguali, le persone non sono tutte uguali, le musiche non sono tutte uguali, non hanno tutto lo stesso valore. Ci sono alcune cose, alcuni libri, alcune musiche, alcuni dipinti che valgono di più di altri. Ma come faccio a dirlo? Sulla base di cosa? E non c'è il rischio del soggettivismo, del relativismo. Esattamente per vincere questo rischio e per soddisfare questa esigenza, la mente di tutte le civiltà, immagino, e tutte quelle che conosco io perlomeno, ha escogitato il concetto di classico. Il concetto di classico, questa è la prima cosa quindi che volevo dire, no? Cioè perché c'è questo concetto? Perché? Perché? A quale esigenza risponde? A quale esigenza risponde? E poi naturalmente i criteri che sono stati escogitati, questa è la seconda cosa, che sono stati messi in campo per dire che è una cosa classica. Naturalmente noi il primo criterio è l'antichità, evidente l'antichità, una cosa che ci proviene dalle nostre radici, che ha vinto il tempo, che ha avuto la fortuna di vincere il tempo. Tanti testi non hanno avuto questa fortuna, magari altrettanto validi, sono scomparsi. Questi hanno avuto la fortuna di vincerlo e hanno avuto la fortuna di vincerlo perché sono stati copiati, ricopiati, quindi selezionati, quindi sentiti come importanti, anche da parte di chi non condivide necessariamente quella prospettiva. Pensate a Omero. Omero ci è giunto attraverso i copisti medievali, copisti medievali cristiani, non condividevano quelle cose, tuttavia c'è quella visione del mondo, quella visione del divino, quella visione dell'uomo e tuttavia non si poteva fare a meno, era davvero qualcosa di antico, di normativo, di primordiale, di archetipale. C'è un archè che parla, c'è proprio la nostra radice che parla nell'Iliade, nell'Odissea e allora anche i monaci che non riconoscevano, diciamo così, il contenuto valoriale di queste cose sentivano di essere al cospetto di qualcosa di canonico, quindi l'antichità. E poi il contenuto e lo stile. L'antichità e contenuto e stile. È una cosa classica quando parla di argomenti importanti e quando lo fa in un modo bellissimo, esemplare, in un modo armonioso, in un modo che si incide, indimenticabile, indimenticabile. E così, la musica, la musica classica, ce ne sono tante di musiche, eppure se uno pensa all'arte della fuga, al clavicembalo bentemperato, pensa alla passione secondo San Matteo, la passione secondo San Giovanni, ai bradenburghesi, ovviamente sto parlando di Johann Sebastian Bach, sente di essere al cospetto di una musica che non verrà mai meno. Chiedo scusa che mi suona qua il telefono, non l'avevo silenziato. Ecco. E questo insomma è il classico. Quindi se questo è l'ultima cosa che dico riguarda l'energia, perché vedete le opere musicali, opere artistiche, i libri, uno pensa immediatamente ai libri, parlando di classico, i libri. Quindi i classici antichi, ma anche i classici moderni, pensi a Shakespeare, prima ancora a Dante, e dopo Shakespeare pensi a Goethe, e dopo pensi a Dostoievski, pensi a Tostoi, i classici, i classici antichi, i classici moderni, i classici della letteratura italiana. Pensa a Manzoni, pensa a Leopardi, pensa a Foscolo, pensa a Primo Levi che è già un classico, pensa a Tomasi di Lampedusa che è già un classico. Va bene, insomma, non tocca certamente a me fare l'elenco per fortuna di tutto, ma il problema qual è? Ecco, il problema è, la terza e l'ultima cosa che dico è energetico, perché vedete, ci sono delle musiche, ci sono dei libri, ci sono delle opere che esauriscono la carica di energia che hanno alla prima lettura. Ti sei anche divertito magari, ma l'hai consumato quel libro, quella musica, non ti dice più niente, sai già come va a finire, ha finito, ha finito quell'energia, era un'energia magari bella, ma comunque di superficie e si è consumata e l'hai letto, e non hai nessuna intenzione di rileggere, non sai già come va a finire, ti annoieresti se lo rileggessi. C'è un secondo livello che riguarda l'informazione, c'è un livello più profondo di energia, per cui tu lo leggi e il libro contiene delle informazioni che non riesci ad assimilare magari tutto in prima battuta e allora lo rileggi, lo riprendi in mano, lo ristudi. Però cosa succede? che anche altri scrivono libri su quel soggetto e quindi questo libro viene superato dallo scorrere del tempo e quindi se vuoi leggere quell'argomento, vuoi studiare quell'argomento, prenderai altri libri non più quello perché è stato superato, non è diventato un classico. Diventa un classico quel libro la cui energia non finisce, diventa un classico quella musica la cui energia non finisce. Contiene una energia che non dipende semplicemente solo dall'antichità, che non dipende semplicemente solo dal contenuto, che non dipende semplicemente solo dallo stile, contiene un'energia che dipende da queste tre cose insieme. Quindi tutte le volte che uno rileggerà Shakespeare o la Divina Commedia o ascolterà Beethoven, cosa succederà? Succederà che qualcosa che vince il tempo, che vince i secoli, arriva ancora oggi, è attuale, cioè produce atto, è attuale nel senso che produce atto, azione, atto, azione. Qualcosa si muove, si smuove per il suo contenuto, perché ti fa pensare e ripensare sempre di più, anche se la conosci quella cosa, sempre di più ti fa scavare e per il suo stile, che è bello, che ti piace, che ti conquista, che ti accompagna, che ti rallegra, magari che ti mette anche un po' di malinconia per certi tipi, ma è bella anche la malinconia, non solo l'allegria, come sappiamo bene dai tempi della musica classica. Ecco, questo è un classico secondo me e quindi concludo dicendo che più noi diventiamo capaci di raggiungere la profondità di noi stessi, cioè di non accontentarci del livello superficiale che parla al divertimento, all'intrattenimento, ma più siamo capaci di scendere, andando anche al di là dello studio e dell'informazione, andando invece a quel livello vero e proprio della formazione, quando vogliamo veramente formarci, o meglio ancora direi riformarci, nel senso di diventare migliori, più capaci di pensare, più capaci di sentire, quando l'anima si allarga. Ecco, più noi facciamo questo, più sentiamo il bisogno di frequentare le opere classiche, sia a livello di pittura, sia a livello di musica, sia a livello di libri. Questo era il mio pensiero sul classico e la classicità. Grazie. 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 Grazie.